L'esercito dei direttanti abruzzesi si rimette in moto per una stagione che si preannuncia come al solito molto interessante. Nel girone A di promozioni si comincia subito con una sfida tra due delle formazioni che ambiscono al salto in eccellenza. Pontevomano-Santomero è il confronto tra due formazioni già protagoniste nella scorsa stagione e che ritentano il grande salto nella categoria superiore. Confronto tra due squadre in parte rinnovate ma con ambizioni intatte. Il girone A di promozioni vivrà un anticipo, la sfida del Fadini tra il calcio Giulianova, squadra neopromossa che però in sede di mercato è stata adeguatamente rinforzata e il San Gregorio che punta decisamente alla salvezza. Detto delle ambizioni di Santomero e Pontevomano che sembrano essere le due grandi favorite della stagione, ai blocchi di partenza della nuova stagione vanno tenute d'occhio per la lotta nei piani alti, i nero stellati di Prato-La Peligna e la Virtus Teramo. Formazione questa ripescata ma che può contare su una rosa di ottime individualità. Sembrano destinati a far bene anche il Mutignano che ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione e il Mosciano rivoluzionato in estate ma pur sempre competitivo.